Inaugurato il prolungamento del molo Manfredi nei pressi della stazione marittima di Salerno. Grazie ai recenti lavori di ristrutturazione, il molo Manfredi diventa a tutti gli effetti il polo crocieristico di riferimento per tutte le navi da crociera costrette fino ad oggi ad attraccare all'interno del porto turistico di Salerno. Con un investimento di 11 milioni di euro, il molo è stato allungato di 180 metri, in prosecuzione della banchina già esistente e consolidata, ed allargato di 35 metri, con annissi lavori per aumentare la profondità dei fondali. Un momento cruciale per il turismo salernitano che vedrà nei prossimi mesi un'alternanza di oltre 100 navi da crociera, provenienti dalle più rinomate compagnie internazionali ed un incremento sostanziale dei turisti sul territorio. Alla cerimonia di apertura presenti anche il sindaco facente funzioni di Salerno, Vincenzo Napoli, Andrea Annunziata, presidente dell'autorità portuale di Salerno, e Domenico De Maio, assessore urbanistica di Salerno. I lavori della stazione marittima sono adesso nella fase di completamento delle opere di arredamento interno. Ho avuto modo di fare un sopraluco la settimana scorsa, sono stati montati anche gli impianti per quanto riguarda la consegna dei bagagli, quindi il nastro che trasporta i bagagli. Stanno nella fase di completamento delle strutture di arredo, tutti gli elementi in legno che caratterizzeranno il corpo centrale della stazione marittima, così come sono state completate anche le finiture interne per quanto riguarda sia gli elementi vetrati che il sistema di copertura con tutti gli impianti. Possiamo dare dei tempi? Beh, sinceramente l'impresa sta andando avanti nei tempi perché stanno rispettando i tempi che sono stati terminati per la consegna. Credo che nel giro di un qualche mese potremmo avere la stazione funzionante, poi dal punto di vista strutturale, dal punto di vista architettonico, poi c'è da fare le procedure proprio per la messa in esercizio. È un momento importantissimo non solo ma anche con una velocità straordinaria. Noi abbiamo costruito questo molo in appena dieci mesi, abbiamo prolungato il molo Manfredi di 180 metri, cominceranno i lavori tra un paio d'anni per allungarci fino al molo di sopraflutto con una banchina che sarà di un chilometro e non solo una banchina di un chilometro ma anche una passeggiata di un chilometro. Praticamente la città si allunga di un altro chilometro, il lungomare di Salerno arriverà fino ai fari e quindi è una cosa straordinaria e molto bella. Ma è evidente che siamo riusciti finalmente a staccare la parte delle crociere dalla parte commerciale in senso stretto, container, macchine, merci varie, non erano un biglietto da visita bello per i croceristi che arrivano da tutto il mondo. Eppure abbiamo fatto la nostra bella figura, siamo cresciuti ogni anno sempre di più, nonostante i lavori in corso anche quest'anno abbiamo il più 30% di crociere ma la cosa straordinaria è che l'ultima crociera di quest'anno l'avremo il 31 dicembre quindi è così come alla vigilia di Natale. Voglio dire la città diventa sempre più importante, sempre più una forza attrattiva per tutto il mondo ed era evidente che un settore dedicato solo alle crociere era importantissimo.